sotto richiesta di una di voi volevo farvi vedere almeno ci provo a farvelo vedere sul braccio cosa come utilizzo io la spazzola questa qui se mi stai guardando spero che il mio video ti sia utile in qualche modo io non sono un estetista però ho imparato nel tempo cosa fare cosa non fare per la cellulite perché ci sono nata purtroppo quindi ti dico vi dico come la utilizzo senza pantaloni ovviamente io faccio dalla caviglia fino su in così praticamente in verticale sempre in verticale dal basso verso l'alto questo sempre in maniera orizzontale dal basso da sotto sul sedere faccio in maniera circolare e questo è per tutta la ramba nella coscia e nel gluteo passo anche questa qui che ha tutti i denti gommosi e faccio così questo lo faccio per 5 minuti quando ho il ciclo non lo faccio sulla pancia non voglio irritare comunque passate questa parte qui in senso circolare sulla pancia sulla pancia due minuti sulle braccia due minuti con queste piccole settore in bambù e faccio così sempre dal basso verso l'alto due minuti quindi tu che mi sento commento mi sembra sei il lina ti saluto spero che ti sia stato utile spero che ti sia piaciuto anche se mi sono dovuto arrabbattare con quello che ho spero a tutti voi che è stato utile lasciate un like e un commentino e niente iscrivetevi al canale per supportarmi ovviamente e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.